Solti! Solti! Si incazzato perché potete vincere, ma goditi anche in questo momento. Ecco l'abbraccio, ci abbiamo l'abbraccio. L'abbraccio tra Massiglio, tra Massiglia da Peroni. In Sassolina la scappa se lo toglie. Lo diciamo che lei è abruzzese? Fregate! Allora la mia domanda è per lei, Presidente Conte, e per quanto tempo ancora sarà il burattino mosso da Salvini e Di Maio per continuare questa cosa? Io burattino non lo sono, non mi sento. Forse i burattini sono chi rispondono a lobby, gruppi di poteri e comitati di affari. Io propongo alla Giunta il dinego dell'autorizzazione a procedere, perché per tutte le motivazioni ritengo che il comportamento dell'azione del Ministro è idonea a configurare il presupposto previsto dall'articolo 9,3 della legge costituzionale dell'89. Così come è stato per lei, sarà per D'Ambrosio. Arrivederci. Scusate, scusate, mi state salutando. Avete ragione, avete... Deputato Fiano ha ragione, ha ragione però con calma. No, questo non funziona. Io chiedo scusa per aver risposto a rivederci e oggi la seduta è ufficiale, io quando sbaglio e mi sono lasciato andare a non rivederci è totalmente sbagliato, quindi chiedo scusa al partito democratico. So, I'm going to be signing a national emergency, we're talking about an invasion of our country, with drugs, with human traffickers, with all types of criminals and gangs. . . . . .